Ciao a tutti e bentornati. Vedo che c'è già qualcuno collegato, c'è la buona Ariel. Ciao Ariel, benvenuta subito in prima fila, che bello. Io faccio entrare direttamente la nostra ospite, tanto non ha bisogno di presentazione perché la conosciamo, la nostra amica Giovanna che è stata già ospite del canale e con lei oggi parleremo di un argomento particolare che è la Kundalini e tutte le energie interiori. Giovanna ha qualche esperienza da raccontarci, ovviamente se avete voglia di fare qualche domanda, qualche commento, scrivetelo che io li faccio passare, ma non esito oltre per dare il benvenuto a Giovanna. Ciao Giovanna. Ciao Max e buonasera a tutti i nostri amici che sono in ascolto. Bentornata, come stai? Bene, sì sì, se si parla di energie perfettamente, quindi... Questo è sempre bello sorridente poi. Sì, sono una persona abbastanza direi positiva nel senso felice di essere sempre qui a raccontare le storie, perché si può essere anche da un'altra parte, no? Invece siamo ancora qui su questo pianeta e ci scambiamo le nostre energie, appunto parlando di Kundalini. la novità è che il 30 ho fissato, parto, vado in Spagna, finalmente dopo due anni, ecco posso dare questa bella novità. Ti avvicini, ti avvicini un po' di più a noi. Sì, mi avvicino un po' di più a voi, beh sì, diciamo sono nel sud della Spagna e sei a Milano, sì un pochettino, però la cosa bella è che finalmente possiamo portare avanti il nostro sogno, che è quello di fare i lavori nella fattoria e farò molti video, perché in quel periodo, sempre che tutto vada bene, avrò la possibilità di comunicare. Dedicherò molto tempo anche al nostro caravan, al gatto, a chi si incontrerà, insomma a questa avventura che durerà qualche mese. Io sto facendo passare anche i tuoi contatti, c'è anche il tuo canale YouTube, così almeno chi ti vuole seguire in questa avventura video riesce, insomma. Grazie, grazie, sì. Perché Giovanna ha anche un bellissimo canale YouTube, che io stesso seguo, fa dei video molto interessanti, divertenti, con anche il bellissimo gatto Tigre che ti accompagnerà in questa esperienza, mi dicevi. Sì, lui è la mascotte, Tigre che tra l'altro te stai benissimo, ci siamo parlati in privato, il mio timore di fargli i vaccini, perché è un gatto di 14 anni, quindi avevo paura che potesse, sai, soffrire, avere degli effetti collaterali, proprio nel tema dei vaccini siamo, quindi, cioè non è solo per noi umani, ma c'è anche il problema per gli animali. E invece, no, è andato tutto bene, sta benissimo, devo soltanto metterlo un po' a dieta. Però, lui sarà quello che ci condurrà in questa esperienza e speriamo che vada tutto bene. Poi magari ne parleremo anche nei tuoi, diciamo, programmi che parli appunto degli animali, dei gatti. Assolutamente, può essere un'idea, così ci aggiorni anche sulla sua situazione. Certo, parleremo proprio di gatti e dei viaggi, che è molto interessante, speriamo che vada tutto bene, io non posso garantire niente perché è ancora una cosa che arriverà, insomma, presto, nel futuro. E quindi ora entriamo nel nostro argomento dell'energia, l'energia femminile, che è una cosa che penso che interessi alle nostre amiche. Assolutamente, intanto si è connesso già qualcun altro, c'è Luci, ciao, benvenuta, Erika, Lori, scusa Giovanna, a me è piacere salutare un po' tutti, c'è il capitano Jack, ciao Jack. Certo, non sapevo se lui era, poteva o no essere in linea, mi fa piacere vederlo, un carissimo amico nostro. Jack può tutto. L'altro molto utile in questo periodo perché io sto seguendo i suoi video che parlano appunto di soluzioni riguardo anche all'energia, no, all'energia a livello proprio della natura, insomma, per quanto riguarda l'energia elettrica, per quanto riguarda l'energia che si può procurare da soli e da essere autonomi, quindi è molto interessante, va seguito il suo canale, lo raccomando, proprio per questo periodo in cui dobbiamo affrontare il problema economico. Difatti, che lui è un esperto da quel punto di vista, ne avevamo parlato anche con lui in diretta. Senti Giovanna, a proposito di Kundalini, io spesso faccio confusione, anche se, nel senso, so che cosa è la Kundalini, l'ho studiata in passato, ma tendo a confonderla a volte con quel cordoncino che collega il plesso solare al corpo astrale. In realtà la Kundalini è altro, quindi volevo magari vedere il tuo punto di vista, che cos'è, insomma. Ecco, io ti dico quello che è la Kundalini dal mio punto di vista non proprio professionale, perché non è professionista della Kundalini, assolutamente. ci sono dei grandi maestri che possono spiegare i particolari esatti di che cosa si tratta, però io ti posso dire, per quello che mi sono interessata, è la nostra energia vitale, per cui noi siamo la Kundalini, perché senza questa energia vitale noi non potremmo neanche esistere. Il fatto è che noi siamo stati condizionati, non tanto da bambini, quanto proprio come generazione anche di, si parla di centinaia di anni, forse anche migliaia di anni, in cui l'essere umano è stato modificato a livello proprio psicologico, ci hanno abituato ad essere schiavi, e quindi questa energia non si è sviluppata nel modo giusto. Ecco perché abbiamo tanti problemi a livello proprio energetico, no? Io ho studiato un po' su un libro, quando io ho fatto psicologia, che ho fatto un po' di psicanalisi, la psicosintesi, che è, diciamo, la branca della psicologia che più si avvicina alla Kundalini, e lì ho imparato un po' quello che significa la liberazione di questa energia interiore e ritornare ad essere se stessi e gioire della vita, e non essere schiavi delle torture psicologiche che ci hanno costretto poi a sopperire la nostra energia in certi punti vitali, che sono i chakra. Come sappiamo i chakra sono sette, poi ci sono anche altri, che però sono meno importanti, ma quelli principali sono i chakra che si allineano lungo la nostra spina dorsale, però esistono a livello energetico a pochi centimetri dal nostro corpo e sono collegati con le ghiandole linfatiche, con le ghiandole endocrine più specifiche, da delle linee molto sottili, diciamo proprio trasparenti, sono linee energetiche che si chiamano nadi, e attraverso queste nadi noi possiamo interagire con la nostra energia Kundalini. Però l'energia Kundalini l'abbiamo anche proprio dentro di noi a livello fisico, e quando per esempio la donna si trova in difficoltà con gli ormoni, è visto durante il periodo, oppure anche in particolare con la menopausa, e io sono già in menopausa da diversi anni, dal 2017, e ne parlo così spontaneamente, anche in modo positivo, perché è stato il periodo più interessante della mia vita, quindi l'energia femminile che poi si ricollega alla Kundalini, l'energia Kundalini non è solo femminile, è anche maschile ovviamente, però nella donna ha un effetto, soprattutto durante la menopausa, un effetto molto particolare, perché non avendo più il sistema endocrino che funziona alla stessa maniera, come quando sei giovane che procura appunto quello che noi chiamiamo il ciclo mestruale, questi ormoni hanno un atteggiamento un po' birichino, quindi la donna dipende a che livello di coscienza è, può gestire più o meno quello che sono gli effetti della menopausa, quindi si potrebbe avere degli effetti molto negativi, del tipo paura, panico, perché cominci a sentire questo cambiamento, ma se hai una preparazione precedente e capisci che questa energia si sta liberando, stai diventando più consapevole di te stessa, questo è il periodo più bello. Io personalmente l'ho vissuta con entrambi gli effetti, ho dovuto fare un corso accelerato di quello che sono gli effetti della menopausa, perché non ero preparata, e quando è arrivata per esempio la mia menopausa, era il 3 di agosto del 2017, che è stato il giorno proprio in cui mi è cambiato tutto, perché è stato l'ultimo ciclo mestruale, e quindi è stato proprio un trauma, però già era iniziato prima, perché la pre-menopausa comunque ti avverte che c'è un cambiamento nell'aria, e io mi ricordo che questa energia ha iniziato a darmi degli effetti un po' particolari, a parte queste famose caldane che quelle arrivarono dopo, però avevo già psicologicamente dentro di me dei cambiamenti, dovuti proprio anche non soltanto alla consapevolezza di quello che stava arrivando, che era questo cambiamento ormonale con la menopausa, ma anche perché in quel periodo io avevo anche un forte stress, dovuto al fatto che stavo studiando, e appunto avevo il trauma della morte di mia sorella, tutto accumulato, causato questa bomba energetica, che è esplosa in questo effetto un po' particolare, mi sono sentita un po' fuori dal corpo, diciamo, e non è stato bello, perché ho cominciato a sentire me stessa un po' strana, un po' fuori dalla consuetudine, e non sapevo come gestirla questa cosa, e quindi ho riferito tutto alla mia psicologa, quella appunto che poi mi ha fatto il corso della psicosintesi, ma la cosa molto bella che ricordo è stato proprio quello di ritrovare me stessa attraverso questa energia che non sapevo come contenere, quindi mi sono dedicata alla danza, ho cominciato a fare questi balli, che sono balli che sono molto connessi alla psicologia, e quindi la biodanza, biodanza si chiama in italiano, e poi ci sono altre tecniche, comunque c'è anche lo yoga, kundalini yoga che ti può aiutare, io ho fatto qualcosa anche a quel livello, perché ti aiuta a respirare, a prendere coscienza di te a livello proprio fisico, e a poter gestire questa energia a livello proprio dei chakra, con la respirazione, però il problema può rimanere a lungo, e dipende, dipende tutto dal tipo di coscienza che hai, come sei preparato, io mi ricordo che l'effetto particolare, che mi ha dato più fastidio, ma che l'ho considerato proprio un'esplosione di quello che poteva essere la connessione con l'universo, è stata questa esperienza di sentire il punto della mia testa, quindi il chakra alto, quello dove risiede la pineale, che è il punto più importante, che batteva, e era come se qualcosa spingesse dentro, allora la mia immaginazione era arrivata a un punto tale, che io vedevo dentro di me come un bastone, qualcosa che si, in effetti è un serpente che dice, si snoda e si allunga, e va a toccare il punto più alto della testa, il serpente ovviamente è un simbolo, non esiste il serpente dentro il corpo, però dà la sensazione che sia come un serpente, perché d'improvviso ti senti proprio, il classico piercing si dice in inglese, che perfora tutti questi chakra, fino ad allungarsi, ed arriva fino alla testa, e io durante la notte spesso avevo questo effetto, cioè che questa specie di tubo, che si connetteva a tutti i miei chakra, usciva dalla testa, e si connetteva all'infinito, quindi io mi facevo questi viaggi astrali, senza nemmeno sapere perché, come e dove andavo a finire, avevo anche molta paura, quindi la paura ha un gioco molto pericoloso, in questa situazione, la Kundalini non sempre è gentile, la Kundalini può essere anche molto pericolosa, se non si sa gestire, perché molta gente in effetti è dato di fuori, soprattutto durante le donne, durante la menopausa, è classico sentir dire è fuori di testa, perché è la menopausa, in effetti è così, cioè la donna in particolare, se non è pronta, può avere degli effetti devastanti per la psiche. Ma scusa Giocco, quindi leghi comunque sempre il risveglio, comunque la crescita della Kundalini, alla menopausa nel caso della donna? Sono comunque due cose legate? No, secondo me il risveglio può avvenire comunque a qualsiasi età, e questo dipende appunto dalla tua anima, a livello animico non si sa quanto sia vecchio il nostro stato animico, potresti essere un'anima molto antica, che poi anche per esempio, quando c'è stato il lockdown, molte persone hanno avuto un grande risveglio, tuttora si parla di risveglio spirituale, non ha niente a che fare con la Kundalini nel termine femminile, con la menopausa. La Kundalini che sto spiegando adesso, essendo proprio un'energia vitale, fa parte della nostra vita, da quando si nasce a quando si muore, e anche alle vite precedenti, per chi crede nella reincarnazione. Noi siamo la Kundalini, tutta la nostra vita, però se si parla dell'effetto che può avere la menopausa sulla Kundalini, allora io ti parlo di questo effetto un po' particolare, è questo risveglio femminile proprio. Allora, la donna, come sappiamo, procrea, e quindi l'energia femminile, quando siamo giovani, noi donne, la concentriamo sulla parte bassa, diciamo, la parte bassa che poi è quella del colore rosso, stasera infatti ho voluto rappresentare la Kundalini con questo abito rosso, e anche bianco, perché poi è il chakra più alto, quello che rappresenta invece la nostra anima, il nostro punto più alto dei nostri chakra, che è appunto bianco. Però il punto rosso, che poi si ritrova proprio a livello sessuale, quindi l'energia sessuale, che è molto importante, è quella che noi sviluppiamo più che altro nel periodo della procreazione, e quindi la donna concentra molto l'energia sulla parte bassa, sul ventre, e quando viene a mancare questo flusso, perché ovviamente a livello fisico c'è un cambiamento ormonale, l'energia si libera, si alza, e è come se ti dicesse adesso devi avere un altro tipo di attitudine, devi pensare a te stessa, perché è chiaro che i bambini diventano grandi, diventano adulti, e la donna invecchia. Allora vedi che è tutto parallelo, cioè non è un discorso separato, è tutto connesso anche proprio con l'età, e quindi anche con la vita che conduci, perché quando sei una donna in menopausa, si può dire, sono una donna in menopausa, diciamo una donna oltre i 45 anni, poi ognuno ha la sua età, per diventare la donna, diciamo, saggia, che dovrebbe essere quando entro in menopausa, e questa energia in effetti cosa fa? Si alza e connette con i chakra più alti, quello del cuore, quello della mente, quindi in teoria la donna in menopausa dovrebbe diventare una donna molto saggia, e dedicare il resto della sua vita alle donne più giovani, a insegnare, quindi ha una grande potenza, questa energia in effetti è una grande potenza, se viene utilizzata con la sapienza, e quindi con la saggezza, e ci vuole la comprensione, se invece pensiamo noi donne soprattutto, adesso puntualizzo la donna però, come sai e come ripeto, insomma la Kundalini fa parte di tutti gli esseri umani, non so se fa parte anche degli animali, dei gatti, io penso di sì, ma questa è un'altra cosa, però, sì sì, poi magari sarebbe interessante vedere anche un aspetto sugli animali, ma per quanto riguarda la donna, è interessante sapere che in questo periodo, l'energia si alza e ti dà una grande lucidità mentale, sempre che tu sappia come prenderla, perché è come un serpente selvaggio, quindi bisogna saperlo gestire, e poi ti dà la possibilità di diventare più sensitiva, molto più acuta di mente, perché comunque ti apre proprio anche a livello fisico, la mente si apre, si sente proprio arrivare questa ondata, e quindi acquisisci anche delle facoltà che non conoscevi, ma essendo appunto una cosa personale, non per tutte le donne così, è un po' come se io stasera svelassi un po' il segreto della menopausa, per poter diventare donne sagge e potenti, bisogna conoscere la nostra potenza attraverso questa Kundalini, che è comunque parte della nostra vita naturale, e cosa dire, bisogna per forza ritornare alle nostre origini, non lasciare che le condizioni mentali possano tarpare quello che è il momento più bello, che è appunto la menopausa, l'età della vecchiaia, se si è fortunati ovviamente ad avere anche una buona salute, e quindi io credo che sia necessario per tutte le donne, arrivare a conoscere se stesse attraverso la psicologia, fare anche un corso di psicosintesi potrebbe aiutare per esempio. E cos'è la psicosintesi esattamente che all'inizio l'avevi detto? Eh beh, la psicosintesi, quella che ho praticato io, è una psicologia che guarda non soltanto la mente a livello freudiano, anzi diciamo supera proprio quello che è Freud, è molto più vicina a Jung, Jung, perché sappiamo che Freud è il padre della psicologia, Jung è stato un suo allievo, però ha portato in auge quello che era l'aspetto spirituale della psicologia, quindi ha iniziato a interessarsi agli aspetti quelli che vanno oltre alla mente, fino a toccare proprio le corde dell'anima. Ecco, la psicosintesi si rifà a quello che è praticamente la psicologia della nostra anima, quindi non si cura solamente il problema a livello psicologico, ma si va a curare anche il livello animico, che è molto importante. Ed è una pratica che va benissimo per le persone che sono già su quel sentiero. Ecco. Io faccio passare qualche domanda, che vedo che si sta scatenando un piccolo dibattito nei commenti, a parte Lorenzo che giustamente specifica la Kundalini è un'energia spirale che dovrebbe partire dalla base della colonna vertebrale. Infatti da quel che so io parte dal primo chakra, fino a svilupparsi e arrivare a quella che era la fontanella dei bambini. Poi c'è Margherita, io vi voglio dare una risposta mia, perché magari se voglia ne dai una tua, Giovanna. Margherita dice comincia a rompere. Il simbolo della Kundalini è un serpente, perché Margherita dice che il serpente è anche quello che rappresenta Satana. Allora io conosco più o meno il punto di vista di Margherita, che come l'ho detto rispetto, in parte posso anche condividere. Quello che secondo me va visto, da un certo punto di vista in questo contesto, è che noi cerchiamo sempre di ascrivere a delle immagini, a delle figure comprensibili, umane, alcuni concetti. Secondo me l'accostare, il simbolo della Kundalini, al simbolo del serpente, ha un significato intanto perché il serpente ha un movimento spiraliforme, quindi non vuol dire che la Kundalini è il serpente, è un serpente per rendere un'idea. E poi perché il serpente come animale è simbolo di trasformazione e di crescita, ma perché? Non perché è cattivo, ma perché lui si libera della vecchia pelle, si libera degli strati superflui o vecchi e rinasce di volta in volta. Poi secondo me l'accostamento della Kundalini al serpente o il serpente al male sono tutte analogie fatte a livello umano, quindi secondo me come è sbagliato, ma non a livello di bene e male, accostare in maniera univoca la Kundalini al serpente e basta, è anche sbagliato accostare il serpente al male. Cioè sono dei modi secondo me per rendere più comprensibili a noi esseri umani un concetto più elevato. Io la vedo così. Infatti anche Jack risponde il serpente è un segno. Lui dice quando sogno serpenti o rettili sono sempre sogni significativi a livello sciamanico. E secondo me Jack proprio per il discorso che facevo prima, perché in questo contesto il serpente va visto come uno spogliarsi di credenze, di un passato ed essere pronti ad evolvere, a vedere cose nuove. Io sono d'accordo con te anche se non avevo mai pensato a questo, quindi grazie di avermi delucidato sul discorso del serpente che appunto cambia la pelle e quindi si libera del vecchio per rinnovarsi ed è un'analogia perfetta per quanto riguarda appunto la Kundalini. Il discorso che poi venga abbinato proprio al serpente probabilmente ha a che fare anche con un discorso religioso, come sappiamo il serpente è appunto simbolo di Satana, simbolo del diavolo, della tentazione e come vediamo il serpente è anche rappresentato per esempio attorno al calice del simbolo della sanità. È vero, il caduceo mi sembra che si chiami. Sì, non lo so il nome, però è una cosa che mi ha sempre impressionata perché vedi questo calice che poi potrebbe rappresentare benissimo anche il calice da dove si beve il sangue di Cristo con il serpente che va intorno appunto al calice. Per quale ragione? Qualcuno lo identifica appunto come l'energia Kundalini che può anche far pensare che sia un'energia che siccome dà una certa carica che sia un'energia negativa abbinata proprio al diavolo alla tentazione ma io non lo so se questo può essere vero perché la mia esperienza è che questa Kundalini è un'energia che può anche danneggiare nel senso che se non sei pronto veramente può dare fastidio di fatti io ho conosciuto persone che soffrono di bipolarità conosciamo le persone e soprattutto gli artisti che soffrono di bipolarità io penso di averne sofferto anch'io perché essere bipolari non significa essere malati significa non avere coscienza della nostra non avere più che altro il controllo delle nostre energie quindi passare da uno stato di euforia a uno stato di depressione perché questa energia appunto ha degli sbalzi ed è sempre la Kundalini comunque allora quando una persona è capace di controllarla il che non è semplice lo capisco ma esistono delle tecniche per imparare e poi comunque anche non avere paura non pensare che sia una cosa così strana ma sapere che fa parte di te della tua natura ecco a quel punto anche la bipolarità che è tanto vista come fosse una malattia non esiste più quindi la persona può anche trovare una certa tranquillità se soffre di bipolarità se prende coscienza di quello che è veramente il suo stato energetico è vero a parte che spesso nel nostro cammino evolutivo ma nella nostra crescita normale di esseri umani non siamo mai quelli che eravamo dieci anni fa e già quello potrebbe essere quasi visto come bipolarismo in senso lato ma io credo che anche nella nostra vita di tutti i giorni noi stessi abbiamo magari con gli estranei un certo tipo di atteggiamento un certo tipo di carattere con le persone con cui siamo più in confidenza ci trasformiamo magari abbiamo dei modi di reagire o di porci che sono anche incompatibili cioè tu dici ieri ho visto delle persone per strada e ho reagito in quella maniera ma non sono io almeno non mi rispecchio in questo momento in realtà si è sempre se stessi e appunto credo il bipolarismo a cui ti riferivi tu nel senso che dipende è giusto essere più persone diverse non è necessariamente schizofrenia e un essere persone a 360 gradi non so forse non mi sono spiegato bene aspetta no la bipolarità come si chiama cioè c'è un tipo di atteggiamento che è considerato simile alla schizofrenia esatto quando hai due caratteri diversi che condividono lo stesso individuo quindi magari una persona quieta che diventa un sadico per dire quello è già un estremo bipolare queste persone bipolari prendono anche dei medicinali perché comunque non riescono a contenere le loro energie e tanti prendono anche non mi ricordo il nome particolare di una medicina che ho sentito dire da qualcuno e io sono contrarissima per esempio a prendere le medicine perché secondo me non danno la possibilità a questa energia di poter essere compresa di poter essere raccolta e poter imparare a gestire in uno dei miei libri per esempio ne parlo e se non mi sbaglio anche nel secondo però guarda l'ho scritto molto tempo fa l'ultimo lo sto revisionando proprio adesso lo sai poi ti manderò tutto di fatto ti volevo dire prima o poi li leggerò anch'io quindi certo c'è una parte che parla appunto di questo di questa energia perché appunto avendo avuto un'esperienza personale e mi sono interessata mi sono anche affascinata e l'ho riportata in uno dei miei romanzi e parlo appunto di questa energia che è connessa con l'universo quindi è molto importante perché noi anche quando moriamo per esempio qualcuno racconta che va dell'esperienza premorte quando attraversano il canale del cordone sarebbe poi un bellicale però insomma anche lì ci sono molte teorie ma quasi tutti vedono come un canale e attraverso il quale poi viene la luce ecco io penso che simbolicamente questo potrebbe essere appunto il nostro Kundalini channel che ci commedia con la vita dopo la morte fisica e si entra nell'universo nell'atmosfera però anche lì ci sono molte teorie e io non voglio essere presuntuosa perché non ho niente da insegnare a nessuno però posso parlare della mia esperienza e posso dire che ciò in cui si crede ciò che si sente dentro può diventare la nostra realtà io me la vivo bene perché questa realtà poi alla fine l'ho trasformata in un beneficio per me stessa e quindi quello che poteva essere un momento difficile della mia vita l'ho reso unico importante sul quale poi ho lavorato tantissimo anche con i miei clienti come terapista e continuo ora a praticare per esempio con la respirazione anche perché ogni tanto facendo anche certi tipi di movimenti ginnastica oppure anche la danza sono tutte cose che connettono con la nostra energia Kundalini ci sono molte molte pratiche che possiamo fare dipende da appunto quello che noi sentiamo dentro basta seguire il nostro istinto e ci dice cosa fare per poter trovare l'equilibrio interiore l'equilibrio energetico sia fisico che mentale perché Kundalini non è solamente una questione fisica è proprio a tutti i livelli animica mentale e fisica sì ma come dicevi tu all'inizio di fatti è noi stessi Kundalini è il nostro essere è la nostra energia siamo noi Kundalini in qualche modo diciamo che è la nostra essenza secondo me è ciò che rimane di noi quando poi ci dissolviamo nella madre terra ciò che rimane di noi è un'energia e questa energia guarda caso come ha detto qualcuno io non mi ricordo il nome di era un ragazzo un uomo insomma che ha detto la nostra la Kundalini è fatta a spirale e guarda caso anche il DNA è fatto a spirale quindi si ritorna all'essenza no e cioè se se pensiamo appunto che il nostro DNA è fatto a spirale la Kundalini è una spirale possiamo definirla quasi come un'essenza del nostro DNA a livello fisico insomma non è una coincidenza però queste sono cose che per esempio le dico io non l'ho nemmeno lette quindi non voglio assolutamente confondere le idee a nessuno a me piace fare appunto queste analogie e poi ci creo le storie pensate ecco come nascono le mie storie no ecco forse la prossima storia parlerò appunto della spirale della Kundalini una buona idea Jack dice per esempio per l'uomo come funziona visto che tu prima ne parlavi in termini femminili effettivamente è una bella domanda ma l'uomo come sappiamo ha l'andropausa e quindi è il momento di saggezza per l'uomo avviene quando l'uomo ma poi anche lì dipende è individuale però diciamo se vogliamo paragonarlo al discorso del cambiamento ormonale è l'andropausa che avviene sempre anche l'uomo verso 50 60 forse l'uomo anche un po' più tardi della donna e quindi come funziona funziona come tutte le altre cose come tutti gli altri esseri non è che cambia molto è un discorso al maschile poi alla fine no l'uomo dovrebbe assumere la saggezza comunque come la donna e vivere allo stesso modo un certo sconvolgimento oppure un'esperienza unica che gli può dare la possibilità poi di diventare un uomo saggio è vero sì penso che cambino forse giusto i tempi ma la fisiologicità è simile in qualche modo sì perlomeno il risultato il risultato dovrebbe essere lo stesso diventare persone sagge che sanno gestire la loro energia a tutti i livelli non soltanto il corpo ma anche il corpo mentale e al corpo animico però quello ci vuole un po' più di pratica intanto sono arrivati degli spunti sulla definizione di bipolarismo che Cathy dice di solito il bipolare passa dalla depressione all'euforia infatti consiglia un bel film con Richard Gere che racconta benissimo il bipolarismo Mr. Jones che io non ho visto tra l'altro credo credo di non averlo visto ah sì 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 penso di averlo visto sì molti anni fa ma ce ne sono altri ho visto anche come si chiamava quello con io non mi ricordo mai i nomi io sono altro che meno pausa qui inizia la vecchiaia quella proprio sai avanzata dimentico anche i nomi mamma mia sì sono veramente ogni tanto io non sono mai stata portata a ricordare i nomi stranieri però ogni tanto mi trovo in imbarazzo che dico sai quello che è tutto lasciamo perdere è meglio non parlarne così almeno non ci confondiamo comunque la Kundalini in quel senso beh no bipolarismo diciamo paragonato alla Kundalini nel senso di euforia e depressione è vero ci sono questi effetti diciamo a livello proprio naturale ognuno di noi ce l'ha chi non ha mai avuto una depressione e un'uforia quasi allo stesso tempo è una cosa è vero quando poi diventa patologica allora si chiama bipolare ma ci sono molte situazioni in cui l'abbiamo provata tutti e questi sono quegli sbalsi che ne chiamiamo sbalsi di umore ma sono anche sbalsi energetici perché noi siamo energia se te vai a vedere proprio in fondo in fondo e ci riduciamo siamo solo un bicchier d'acqua e un ammasso di energia non siamo nient'altro siamo degli atomi quindi l'energia non è una cosa strana no? parlare della Kundalini a livello energetico per cui la bipolarità è molto importante perché è quello che ci hanno fatto credere che sia una malattia ma in realtà secondo me non lo è è solo un non saper gestire la nostra Kundalini io su questo mi sono trovata molto in contrasto anche con delle persone proprio su YouTube quando poi vado a commentare certi video che parlano di questo ci sono persone che ma non lo so se sono dei medici o comunque esperti di quello che può essere la medicina quindi la bipolarità mi hanno proprio giudicata mi hanno criticata per questo mio modo di esprimermi dicendo che comunque si impara senza medicine a controllare l'energia e loro non sono d'accordo perché dicono se dici queste cose puoi anche fare dei danni perché ci sono persone che potrebbero suicidarsi ma io questo non voglio prendermi la responsabilità io non dico non prendere medicine se è necessario una persona va benissimo che le prenda se proprio non ne può fare a meno però io personalmente non le ho prese quando ho avuto certi effetti e potevano essere benissimo bipolarità e questo mi ha insegnato a gestire me stessa a conoscermi ad amarmi di più ad apprezzarmi ad avere più forza più coscienza di me guarda io sono d'accordo con te anche perché ovviamente uno deve avere la forza la forza d'animo la forza interiore e probabilmente avere anche delle persone di fianco che possano sostenerlo in determinati momenti ma anch'io sono per il non utilizzo delle medicine anche perché l'utilizzo delle medicine a livello di patologie mentali stranamente ma sono ironico da questo punto di vista è spesso associato poi a degli stati a dei suicidi quindi magari è vero che al momento come poi succede anche per la febbre tu curi il sintomo ma non curi la malattia anche con gli psicofarmaci vai a curare un sintomo e poi peggiori la malattia se vai a vederti i foglietti illustrativi di tanti psicofarmaci poi portano a schizofrenia e a episodi di manie aggressive e morte addirittura ho notato che spesso e volentieri chi è in cura con psicofarmaci finisce suicida per impiccagione in particolare c'è questo corrispettivo schematico che è inquietante quindi sì è vero forse i farmaci sulla prima può sembrare che aiutino ma attenzione che comunque serve secondo me sicuramente un lavoro interiore e dovrebbe bastare quello se uno sceglie di usare i farmaci attenzione e comunque lavorare su se stessi perché quella è una strada a senso unico che a me fa paura sì ma poi lo vediamo anche nelle malattie fisiche cioè se prendi delle medicine magari all'inizio ti possono anche aiutare io quando se proprio per dire ho un'allergia locale a volte mi capita che mi viene fuori una macchiolina di psoriasi locale ecco io ci provo a mettere l'olio quello quell'altro però poi alla fine devo cadere nella pomatina che mi ha dato il dottore perché altrimenti non se ne va però non è che va via per sempre quelle cose ritornano perché sono dentro il nostro sistema per cui insomma la medicina può aiutare in un primo momento però poi bisognerebbe scoprire la vera causa e lasciare anche che il nostro corpo possa reagire con gli anticorpi quindi io per esempio ho avuto un'infezione agli occhi tempo fa ma non era proprio un'infezione era l'occhio secco dovuto sempre alla menopausa mi erano venute delle scistine sopra sopra l'occhio ecco se vai a farle togliere che si chiamano calaso ha un nome particolare se sono proprio orribili lo devi togliere e fai la chirurgia ma una volta che l'hai tolta ritornano potrebbero tornare poi ci sono anche ci possono essere anche degli effetti collaterali io l'ho lasciata proprio ho detto guarda non mi piaccio perché quando mi è venuto di qua insomma una se vuole essere un po' carina se le va a togliere nel giro di pochi giorni togli il problema come si fanno per esempio il lifting si può togliere anche il calaso è sempre una questione di estetica perché non dà fastidio ma la natura provvede a tutto ci vorrà un anno mi c'è voluto per ogni ciste per eliminarla e una è piccolissima ancora che si nota proprio se proprio vedi la luce ma io dico quanto è bello vedere quanto con la pazienza questi nostri questi nostri anticorpi come lavorano bene cioè un po' come se crollasse un palazzo e noi andiamo lì a prendere i mattoni e li dobbiamo togliere pezzo per pezzo è chiaro se avviene una ruspa fa prima ti toglie un batter d'occhio ma se le dobbiamo togliere noi ci vuole tempo ecco loro lavorano nel nostro corpo nello stesso modo e se te entri in sintonia con questo nostro sistema naturale che abbiamo dando fiducia al corpo ti accorgi che lavora per te lavora per la tua estetica lavora per il tuo non essere e anche l'energia è la stessa cosa quindi quando uno si sente nervoso quando si sente depresso oppure quando ha questi sintomi di squilibrio mentale deve avere un po' di pazienza con se stesso se proprio non ne può fare a meno prende le medicine e ci fa una bella dormita sopra speriamo che siano cose diciamo provvisorie che non si ripetono e quindi se prendi una pasticca una volta ogni tanto non c'è niente di male ma se diventi poi a suo effatto è chiaro che entri in un meccanismo in cui la medicina sostituisce il tuo sistema immunitario e il tuo sistema endocrino che è quello che viene regolato appunto dalla Kundalini Energy detto in inglese e cosa succede? Le ghiandole linfatiche del nostro sistema endocrino non smettono di lavorare non funzionano più al naturale perché entra subentra che cosa? Subentra un effetto chimico a cui ti assofai la soefazione non è altro che la sostituzione poi perché se smette di prendere le pasticche cosa succede? Non stai bene perché non stai bene? Perché il tuo sistema naturale ha smesso di funzionare quindi non hai più quell'effetto benefico che si raggiunge quando per esempio anche solo con il massaggio io dormo da Dio per esempio ma durante il periodo della Kundalini che si era alzata io non dormivo per niente avevo due ore di sonno e basta ecco perché ero nello stato diciamo quello dell'esaltazione mi si era alzata l'energia e ho dovuto fare delle pratiche sono stata da un medico ayurvedico e ho fatto dei massaggi ayurvedici con il latte perché loro usano il latte proprio per addolcire l'energia sulla testa poi ho fatto danza con la danza mi sono ho imparato a distribuire le energie su tutti i chakra però sono delle danze fatte apposta per aiutare il corpo e la mente a riequilibrarsi poi ho fatto dei massaggi e tuttora se per esempio ho un momento di squilibrio a me basta pochissimo io con un massaggio ai piedi un massaggio alla testa ma proprio leggero mi addormento a meno che non sia un periodo particolare in cui c'è per esempio una sofferenza psichica che richiede anche più di un massaggio leggero però ci può essere capito una serata che magari ti senti più esaltata e non riesci a dormire io per esempio la maggior parte delle volte dedico il tempo alla lettura oppure guardo dei video ecco cerco di sfruttare quei momenti in cui dormo poco per creare perché la creatività è anche molto importante con l'energia Kundalini è vero si viaggiano pari passo praticamente sì noi siamo dei creativi per natura cioè non dimentichiamo se noi si pensa che il creativo è solamente l'artista ma il creativo siamo noi la nostra energia noi si nasce proprio creativi il fatto che poi non la sviluppiamo durante il corso della vita significa che ci sono sono subentrate delle interferenze altrimenti noi come natura saremo tutti esseri liberi non avremo per esempio le paranoie sessuali che abbiamo perché lì subentra la religione non avremmo le paranoie di sentirsi inferiori ad altri noi saremo esseri liberi a livello naturale ma sono entrati questi filtri educativi che poi fanno parte appunto come ho detto all'inizio anche di una cultura molto molto antica e ci hanno impedito di essere noi stessi e quindi questa Kundalini reclama la propria esistenza questo è importante la Kundalini reclama la propria esistenza ed è per questo che ogni dieci anni a me personalmente ma questa è una cosa tipica di tutte le persone che hanno che fanno una ricerca delle proprie energie ecco ogni dieci anni ho questo sconvolgimento e si fa sentire magari con delle sofferenze ma sono sempre meno la prima che ho avuto quando ero molto giovane era la più forte poi a mano a mano che sono diventata vecchia adesso adesso la prossima chissà come sarà l'ho avuta l'ultima nel 2017 ed è stata quella in coincidenza con la menopausa che non è proprio una coincidenza cioè è stato proprio dovuto alla menopausa e poi con gli anni vedremo spero di essere ancora qui a raccontarlo insomma che cosa sarà la prossima botta sarà quella finale quella che proprio mi vado e esco dal tubo e mi dissolvo finalmente nell'universo e diventi pure energia pure energia non torno neanche più guarda voglio fare un biglietto di andare senza ritorno il prossimo lo voglio senza ritorno però dicono che è difficile e purtroppo i biglietti l'hanno finiti e ci sarà quella del ritorno è tutto gratis è un viaggio di andata e di ritorno già incluso nel prezzo dobbiamo ritornare ritorneremo a fare danni Jack diceva ma anche se non si va in menopausa o andropausa si può diventare saggi comunque io credo di sì sì Jack assolutamente io sono saggio e non sono in andropausa sono saggio da una vita ma ci sono dei bambini che sono già saggi bambini che non sono già con la saggezza no no aspetta un attimo forse mi sono non mi sono fatta capire bene io non voglio dire che la saggezza arriva solamente quando arriva al periodo da menopausa quello è il momento in cui la persona dovrebbe accumulare tutte le esperienze e perché siccome gli ormoni si spostano e danno diciamo più impeto alle parti alte di essere più attive ecco che nasce la saggezza ma la saggezza può essere anche una cosa dovuta a delle vite precedenti cioè ci sono dei bambini che nascono già con della conoscenza straordinaria capito è una cosa molto relativa però ecco a livello diciamo medio gli esseri umani si comportano un po' così insomma arriva il periodo della saggezza quando è visto un po' come si dice il dente del giudizio insomma è una cosa molto relativa non è che metti giudizio perché arriva al dente insomma puoi essere anche io credo che la crescita ce l'abbiamo sempre se noi la ricerchiamo probabilmente ci sono degli avvenimenti nelle nostre vite magari anche degli shock non so degli avvenimenti shock emotivi che magari ci danno quello strappo che lì o cediamo o se resistiamo ci spingono ad andare avanti io credo che sia questo alla fine lo scarto lo stacco della Kundalini che poi tra l'altro Jack chiedeva se l'energia dei chakra per come la vedo io per come te la so spiegare dal mio punto di vista Jack i chakra sono dei punti energetici ognuno con una sua peculiarità e è una loro posizione sulla colonna vertebrale dell'essere umano la Kundalini non è altro che un'energia che aumentando e crescendo passa da queste fermate è un po' come se fosse una specie di mercurio termometro la Kundalini viaggia nel suo cammino evolutivo tramite i chakra e ogni chakra è relativo ad una sua peculiarità ad un suo stato dell'essere umano si è stato un po' vago ma no no è molto preciso e infatti rispecchia benissimo quello che poi si legge in certi libri dove io poi ho preso un po' di informazioni nel periodo che andavo appunto a fare la psicosintesi e si parla molto dei chakra perché su ogni chakra c'è una storia e quindi si parte proprio dai chakra più bassi che sono quelli appunto che stimolano la nostra vita attiva a livello terreno sono quelli più il chakra basso quello che appunto è collegato al colore rosso è quello più legato alla terra però ci sono tutta una serie anche di psicologia dietro questo chakra cioè in poche parole i nostri chakra se sono equilibrati noi non dovremmo avere grossi problemi nella vita il problema è quando uno di questi chakra ha troppa energia o poca allora comincia ad avere degli squilibri energetici in quel punto che poi è tutto collegato può essere la tua mente che va ad influire negativamente su quel punto e quindi nascono delle malattie come per esempio il chakra del pancreas è una chiandola il pancreas ed è collegato appunto al plesso solare se non mi sbaglio mi sembra perché è appunto qui sull'addome per cui se te hai dei problemi che riguardano non so magari l'affettività e poi ti porti dentro questa mancanza di amore questa sensazione di solitudine e provoca poi anche un'infiammazione delle vie digestive il pancreas la bile eccetera e ci sono tanti libri che infatti insegnano proprio a come risolvere i propri problemi cercando di capire che il tuo problema mentale influisce su quello fisico ecco come si collega poi la psicosomatica il problema psicosomatico legato dalla mente passa poi al fisico tra l'altro non so se quanto ci entri con alcune domande che ha fatto Jack ma secondo me ha senso nel discorso che stiamo facendo secondo alcune dottrine il risveglio della Kundalini e l'accensione dei vari chakra viene visto a livello tantrico quindi comunque si viene utilizzato il sesso per risvegliare i vari chakra e risvegliare i vari corpi astrali io anni fa avevo seguito un percorso con Dignosi del maestro Samaela Aumeor che vedeva tutto però dal punto di vista prettamente sessuale cioè per lui l'unico modo di evolvere i nostri chakra e i nostri corpi sottili era quello di lavorare sì consapevolmente a livello mentale ma lavorare anche a livello sessuale nel momento in cui mancava il lavoro sessuale che per lui era importante non si poteva arrivare al risveglio dei vari chakra e di conseguenza della Kundalini ecco volevo dire che c'è anche questa scuola di pensiero su cui io non sono completamente d'accordo ma neanche in disaccordo anch'io io sono anch'io entrambi il tantra è una pratica un po' particolare che io ho conosciuto un pochino poco poco ho fatto dei massaggi diciamo l'ho subiti io io non riesco a farli perché comunque poi si entra in un discorso anche personale di quanto gli altri possono fraintendere non siamo così tanto evoluti da questo punto di vista da poter stare tranquilli quando si parla di sesso quando si parla di effetti diciamo estatici attraverso anche certe danze eccetera che poi richiamano la sessualità io diciamo mi riservo un pochettino su questo argomento perché ho conosciuto qualche persona insomma che me ne ha parlato ho fatto anche qualche massaggio a livello diciamo proprio piccolo tantrico ma non proprio profondo e sinceramente a me io non sono così d'accordo perché se vai a stimolare tanto le parti sessuali che già voglio dire ognuno ha il suo di stimolo sessuale è molto personale secondo me vai anche a provocare una specie di alterazione hai capito però non voglio assolutamente contraddire chi ne sa più di me di quello che è il massaggio tantrico di quello che può essere appunto la Kundalini a livello tantrico quasi tutti i maestri sono d'accordo sul discorso che l'energia Kundalini nasce proprio dalla sessualità e sì lo confermo lo posso confermare perché io personalmente quando ho avuto il risveglio della Kundalini a livello energetica non mi vergogno a dire che comunque ho sentito anche molti più stimoli sessuali ecco beato il mio marito perché era il mio partner di allora poi infatti mi ha sposata perché dice questo è fuoco e fiamme invece poi dopo si è stabilizzato tutto adesso vuole divorziare ecco quindi dimmi questa Kundalini adesso sto giocando sai che a me piace scherzare però è vero io l'ho conosciuto proprio in quel periodo ed avevamo anche una bellissima attività sessuale e che era dovuta proprio a questo risveglio e posso ammettere che è vero ma non è vero secondo me che va alimentato secondo me va gestito ma bisogna imparare a gestirlo in modo che questa energia possa fluire anche poi nelle parti alte diciamo gli altri chakra le va alimentare ed è bellissimo quando ti senti in equilibrio sia con il corpo che con la mente ma certo se poi fondi tutto sul chakra basso e il che non è così difficile perché è una droga anche quella per cui può diventare una questione allora poi la Kundalini la riduce solo al chakra basso io credo che non ci siano altre cose da dirsi io credo che siano strumenti io nel contesto in cui ho sentito parlare ero con altri membri del gruppo che erano già sessantenni settantenni che giustamente dicevano alla persona che ne sta parlando ma quindi noi come facciamo e il succo della risposta era mi dispiace ma mi tocca aspettare la prossima vita a me quella sembra una cosa esagerata cioè può avere un senso il lavoro sessuale che sicuramente serve ma non può essere l'unico appunto è uno strumento e va utilizzato se si può utilizzare ma non è l'unico non può essere l'unico poi soprattutto se sei una persona che usa molto la mente cioè forse il discorso sessuale diventa anche molto più tenue dal punto di vista proprio di sensazione no? cioè non siamo tutti uguali c'è chi parla c'è chi ha il linguaggio del corpo molto più sviluppato a livello sessuale meno quello mentale e chi viceversa e entrambi sono sbagliati se sono delle ossessioni eh perché anche essere troppo mentale e poi eliminare completamente le parti basse insomma voglio dire ti riduce ad essere un grande intellettuale però poi non hai equilibrio comunque poi magari ti si scatena il bisogno di andare a violentarti una persona perché ed improvviso l'energia richiede comunque il balance no? anche nelle parti basse per cui un equilibrio nelle nostre energie è importante per quello proprio per non avere dissociazioni anche mentali capito? quindi io poi ecco do la mia opinione opinione personale in base anche alla mia esperienza anzi soprattutto in base alla mia esperienza e i maestri possono insegnare molto più di me anche se tutti siamo maestri secondo me nel nostro piccolo c'è una domanda scusa Giovanna c'è una domanda secondo me profonda di Margherita se hai voglia di risponderle dice Giovanna hai mai fatto esperienza con Dio nel senso hai mai sentito dentro di te l'amore universale quello che viene chiamato estasi? sì sì l'ho sentito soprattutto in quel periodo lì ed è stata una cosa straordinaria mi sembra che ne abbiamo anche già parlato in un'altra puntata che abbiamo fatto che ho avuto anche degli effetti molto strani del tipo che volavo a pochi millimetri dal terreno e qualcuno l'ha anche visto perché questa energia è veramente molto potente può anche veramente causare delle cose fisiche a livello straordinario ecco io in quel periodo lì avevo delle grandi estasi mi sentivo che non avevo più il corpo e se non avevo troppa paura perché poi ho imparato dopo a non averla me la vivevo come una cosa straordinaria purtroppo il panico a volte mi costringeva a chiudermi a cercare una sicurezza ma se te invece ti lasci andare queste estasi sono stupende io l'ho imparato e poi con il tempo ho imparato e me le sono proprio vissute come delle connessioni con quello che è Dio Dio qua alla fine è proprio questa per me è questa connessione questa libertà questa liberazione dal nostro piccolo guscio e quindi sì che l'ho provato e adesso sì ma però deve continuare questa cosa ma con un altro tipo di energia perché noi dobbiamo mettere anche le radici a terra e quindi avere diciamo lo chiamano il grounding come si dice in italiano accidente comunque il concetto è quello io l'ho capito non riesco a renderlo in italiano radicale 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 giusto ecco io l'ho imparato in inglese perché andavo appunto a fare psicologia in inglese però questo grounding è molto importante il radicamento sulla terra per cui le estasi poi diventano tutta la vita ma non è più quel fluire strano nell'universo che te senti proprio che non esisti più ed è bellissimo e lì è proprio il momento esaltante però non può essere sempre perché noi comunque abbiamo anche dei compiti da svolgere sulla terra e richiedono una mente concentrata e lì allora si spenge un po' quell'effetto però non dobbiamo nemmeno andare a finire proprio nei bassi fondi ma rimanere sempre cercare secondo me di rimanere in uno stato istatico a livello però di radicamento esatto cioè portare l'estasi nella vita quotidiana il che è la parte più difficile perché è quella che ti permette di non subire danni dovuti alla società i problemi che abbiamo avuto anche durante il lockdown quelli che continuiamo ad avere adesso con le guerre cioè rimanere nello stato istatico secondo me significa avere la consapevolezza che noi siamo energia e che nessuno ci può togliere questa libertà nemmeno chi crede di controllarci ma è una questione di consapevolezza voi alla fine nient'altro è vero tra l'altro io ho trovato una frase bella che a me ha colpito adesso sto leggendo da poco Il Signore degli Anelli avevo iniziato a leggerlo anni fa non mi aveva preso troppo pomposo troppo pesante eccetera adesso è uscita una nuova traduzione più musicale secondo me nel primo libro La Compagnia dell'Anello e gli Hobbit che conoscono Tom Bombadil e Tom Bombadil è una sorta di essere primigeno e sembrerebbe essere onnipotente e nello stesso tempo allegro spensierato e giocoso quando fanno il consiglio con gli Elfi per cercare di capire come sconfiggere il male insomma alla fine qualcuno dice ma non potremmo chiedere aiuto a Tom Bombadil visto che Prendi è energia primordiale e che non può essere sconfitta e perché Sauron che è il cattivo non può avere la meglio su Tom Bombadil e Prendi il re degli Elfi risponde e sembra una frase stupida a me ha colpito tanto perché Tom Bombadil è padrone di se stesso è una frase semplice però se tu ci pensi è potente appunto è potente perché vuol dire che ha raggiunto la consapevolezza del sé e è padrone di se stesso quello che manca a molta gente insomma la padronazione perché tu sai che tu sei tu e sei consapevole di te e di quello a cui tu puoi giungere e su cui puoi influire cioè quello a cui tu devi rendere conto sei tu non so è una cosa un po' strana da definire a parole però credo che renda bene l'idea se uno capisce il concetto sei padrone di te stesso tu sai ma io credo che le cose più importanti della vita sono quelle più semplici alla fine dire tutte queste grandi frasi queste grandi azioni che noi siamo abituati a seguire però poi alla fine ci sono delle cose piccole molto importanti che a volte possono venire fuori anche dalla frase di un bambino ecco la saggezza del bambino hai capito quindi ci sono delle cose veramente fondamentali che stanno nella semplicità della vita è vero nella ricerca continua di quello che potrebbe essere di quello che mi hanno detto che fosse che sarà ma stai dove sei che tanto la vita è solamente il presente siamo adesso qui io te i tuoi amici i nostri ascoltatori e chi ci ama ci segue dico sempre io esatto esatto ed è la cosa più importante e questa è la cosa di se stessi secondo me nel presente sì nel presente sì nel presente il momento presente è la soluzione a tutti i mali secondo me ne parlavamo proprio oggi con un mio amico che era al telefono e parlavamo di soluzioni a questa a quell'altra il vivere il presente come io a volte dico imparare a camminare nel fuoco senza bruciarsi per me è questo cioè io non penso tante volte che se più ti organizzi nel futuro cosa che è indispensabile farla lo capisco perché anch'io andrò in Spagna a organizzarmi per il futuro però più trovi ostacoli la soluzione ai problemi a volte arriva proprio passo dopo passo il fuoco ti è accanto però te lo puoi anche evitare non ti bruci perché non ti bruci perché la mente è concentrata sul momento presente quindi vedi chiaramente quello che hai sotto il naso perché a volte si dimentica che il pericolo che hai proprio accanto a te non lo vedi perché hai da guardare oltre e quindi non ti accorgi dei pericoli che sono presenti e ti dimentichi anche degli affetti presenti l'amare qualcuno nel passato oppure nel futuro ma l'amore è qui e adesso è il tuo gatto la tua compagna i tuoi amici anche quando ci odiamo secondo me amore perché io non credo nel perbenismo assoluto io credo che anche l'odio faccia parte dell'amore io sono una taoista per cui il bianco e il nero per me coesistono io sono bianco e nero io non sono solo buona io ho delle rabbie che poi le esprimo alla mia maniera cerco certo di non danneggiare però dono si è equilibrata nell'esporre la tua opinione mi piace grazie grazie faccio del mio meglio anche per esprimermi con la gente che mi segue perché insomma è importante dover essere chiari quindi ho imparato un po' anche a gestire le emozioni guarda che all'inizio non ero così io se vai a vedere certi video del passato vabbè ho iniziato da poco a fare video ma anche quando mi ricordo che facevo i video per altre ragioni ero molto giovane in Italia facevo andavo in televisione parlavo di arte avevo sempre un'emozione che mi mandava fuori di testa quindi non riuscivo a gestire bene le emozioni adesso invece ho imparato che anche la telecamera non è assolutamente cioè per me che ci sia una persona che mi guarda o ce ne sia una migliaia poi non mi cambia niente ecco che il momento presente è molto importante perché ci sei te te la tua energia e poi non pensi al pubblico nel senso che paura cosa mi giudicano no no è importante che te fai scorrere questa energia appunto di cui parliamo fluente in maniera molto fluente senza ostacoli ma se comincia ad avere le paure comincia a crearti il problema del giudizio i chakra appunto parliamo adesso dell'effetto fisico della paura del timore sono come come delle conchiglie io le identifico come dei ricci o come delle cose che quando le tocchi si chiudono un po' come le piante hai visto quelle le carnivore che ci mette il dito si chiudono ecco i nostri le sto coltivando con successo io l'ho avuto una volta mi sono morte guarda forse non gli ho dato abbastanza bistecche gli davi l'acqua sbagliata ecco sì sì può darsi imparerò anche quello comunque capito è una questione proprio anche di gestire il nostro timore verso gli altri e i nostri chakra secondo me funzionano proprio anche con questo effetto un po' a chiusura non appena hai paura cambia se si potesse identificare il colore che abbiamo da blu bianco violetto può diventare nero marrone prima poi nero e i chakra si chiudono e quindi comincia a sentire questa costrizione interiore questi muscoli che diventano rigidi ecco in poche parole come si cambia in un secondo ecco quindi io ho imparato a cercare di mantenere l'effetto fluente ma Caterina ha scritto secondo me interessante il primo chakra è anche quello delle radici così come il secondo è quello della creatività quindi ci sono tanti modi per mobilitare l'energia secondo me nel contesto di prima che appunto non è necessario per forza fare un certo tipo di lavoro a seconda del chakra sotto cui tu agisci puoi ottenere un certo genere tipo di risveglio una cosa del genere sì ci sono guarda io se riesco a trovare io ho dimenticato una cosa importante un secondo guardo se lo trovo ti faccio vedere un libro vediamo se riesco a trovarlo che potrebbe essere qua ma non prometto niente perché ho tantissimi libri e non so se riesco a trovarlo velocemente vediamo 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 giustamente secondo me i chakra essendo tanti uno deve anche capire su quale deve e può lavorare anche in un determinato periodo della sua vita quindi non è detto che comunque bisogna partire dal primo e per forza salire ci sono anche dei momenti e delle necessità particolari sì quando troverò il libro poi te lo farò vedere magari personalmente ti mando la fotografia ai tuoi amici anche magari in un'altra occasione ma ce ne sono tantissimi libri molto belli quello che ha aiutato me è uno in particolare che poi ti farò vedere e si appunto parla dei chakra ma parte proprio dalla psicologia dei chakra più che da quelli fisici poi è chiaro ci sono gli effetti fisici ma anche per esempio il bambino non si può pretendere che il bambino abbia dei chakra equilibrati il bambino passa da un'emozione all'altra molto velocemente per cui nel suo sbilanciamento è equilibrato però ogni età ogni periodo ha il suo movimento anche di questa energia quindi l'energia ha tanti 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 aspetti è una questione di età una questione di educazione una questione di come ti poni nella vita e ci sono tanti aspetti che andrebbero visti tutti a 360 gradi ecco perché questo libro come tanti altri sicuramente insegnano a capire chi siamo attraverso l'energia perché noi siamo quell'energia appunto tutto il resto è costruito intorno facciamo proprio il discorso contrario invece di immaginarsi di avere una spirale interna o questo serpente o quello che sia diciamo che noi siamo proprio quello e tutto il resto i nostri atomi sono costruiti attorno che è la materia ecco che si crea quello che noi vediamo ma noi non siamo solo quello e lo sappiamo molto bella come figura mi piace eh sì parte dalla rovescia dall'interiore per poi arrivare all'esteriore ma noi siamo abituati a fare il contrario a visualizzare solo ciò che vediamo e poi trascuriamo la parte interiore o quantomeno si va a pensare alla parte interiore solo in certi momenti ma che cos'è questa cosa interiore che cos'è questa energia non siamo abituati a parlare di queste cose però adesso è bello perché ci stiamo avvicinando con l'awakening con il risveglio spirituale fortuna vuole questo benedetto covid ci ha portato questa benedizione e adesso tante persone cominciano a interessarsi a gestire la propria vita in base proprio alla conoscenza di sé mentre invece prima guardavamo appunto solamente il guscio quelli che eravamo a livello estetico fisico e controllati da qualcuno che ci diceva cosa fare adesso finalmente andiamo a esplorare il mondo interiore e da lì si parte per poi arrivare a quello esteriore è vero la bellezza interiore no è molto c'è Jack che ti scrive Giovanna non lo sai ma hai detto una cosa che mi ha illuminato a volte ti ho paura di fare grazie bene mi fa piacere che ti ha illuminato te che parli sempre di illuminazione con le candele le lampade adesso hai subito un'illuminazione da me lui insegna l'illuminazione in un altro senso però benissimo mi fa molto piacere già che è veramente una persona che comunque a parere mio uno dei pochi che considero in un certo senso illuminato lui dice che appunto l'illuminazione la vive in questo momento a seconda delle parole che si dicono no e infatti è così l'illuminazione arriva attraverso certe parole però ci sono persone come lui e anche come te in maniera diversa perché siete due persone completamente diverse ma molto complementari secondo me tra l'altro vi ho presentato mi ricordo però siete siamo persone che in questo momento abbiamo un bel percorso da fare e io lo vedo interessante molto utile non solo per se stessi ma anche per gli altri ma io credo che se le persone si incontrano e se succedono determinate cose anche se non ci sono chiare al momento e per determinati motivi c'è uno scopo dietro in qualche modo magari non lo capiamo ma questo è sul mio ultimo libro quello che sto traducendo e che poi leggerai che è la terza la terza visione the third in inglese la terza visione e lì si parla appunto di quello che hai detto adesso anche poi guarda quando l'avrai letto magari non ti vedo più perché sarai sconvolto perché se fossero le avventure lì ce n'è tanta 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 avventura però non lo so io mi auguro che che avrai una buona impressione poi magari ne discuteremo sono curiosa di sapere la tua opinione ma assolutamente anzi potrebbero essere delle buone idee per fare delle puntate di confronto di approfondimento di certi certi temi magari che poi mi faccio spesso stimolare dalle mie letture proprio per approfondire e parlare delle cose te che appunto ami i libri e io sono felice appunto di darti questi libri proprio perché te li apprezzi una volta che l'avrai letti se te trovi qualcosa che ti darà spunto proprio per discutere che c'è molta spiritualità nei miei libri anche se sono dei thriller potremmo ecco aprire delle grandi conversazioni con persone interessate a parlare appunto di queste cose poi chi ama leggere questi libri li può trovare benissimo anche online io l'ho messo proprio a un pound un euro un super ricordo delle sciocchezze proprio perché voglio che la gente non abbia difficoltà a leggere insomma non ti sto speculando sopra ecco infatti non voglio presentare i miei libri con questo senso di speculazione almeno non adesso poi se diventerò famosa allora ecco allora poi ci faccio i film perché io sto cercando quello vediamo come va ma mi piacerebbe moltissimo creare certo qualcuno tempo fa di fatti mica per niente li voglio autografati i tuoi libri eh sì sono storie che potrebbero essere sai sono alcune possono anche assomigliare un pochettino a come si chiama le avventure appunto che si trovano di Indiana Jones no qualcuno le potrebbe paragonare alla la pietra miliare famosa che uno trova eh in Doctor Who o qualcosa del genere ma in realtà c'è proprio un misto di tutto questo ci sono sì delle parti anche un po' così superficiali dal punto di vista diciamo della storia no cioè ma queste sono cose inventate proprio di pura fantasia però poi si collegano con delle conoscenze a livello spirituale che sono parte della mia intuizione perché ricorda che io questi libri li ho scritti solo con quel canale lì che è il canale della Kun da Kunelini eh e si casca sempre lì alla fine eh è quel canale lì anche libri eh l'arte è la prima cosa che viene fuori per cui la connessione la questa io la visualizzo sempre come una connessione di questo tubo che va all'infinito e io credo di prendere gli archetipi da diciamo lo sai cosa sono no gli archetipi sì certo sì sì cose che sono già state fatte sono già state discusse tutto quello che noi facciamo anche in questo momento non è che sparisce a parte il video ma proprio anche a livello energetico rimane e noi siccome siamo delle radio trasmittenti ci colleghiamo no ecco che possiamo recepire qualche pensiero qualcosa che è già stato creato da qualcuno in passato e quindi quando abbiamo questi questi diciamo queste intuizioni che vengono fuori appunto da qualcosa di strano dice ho scritto questa storia e non me la ricordo nemmeno io non me la ricordo neanche le mie storie perché vengono fuori da questo canale beh chiaro che sono cosciente io quando scrivo non è che vado in trans con gli occhi arrovesciati e che scrivo come una pazza no questo assolutamente no sono più che cosciente ma non preparo la storia io a volte vado di getto e prendo spunto a volte da cose che mi succedono durante la giornata oppure che mi sono capitate anche in passato amici che mi dicono delle cose ecco che ci creo la storia questa è la parte diciamo della fioritura ma l'essenza della storia non la so io io do un titolo a volte ma non so mica quello che devo scrivere non la preparo proprio viene fuori così e poi mi accorgo mentre scrivo qual è la trama ma dopo di conseguenza quindi è veramente un gioco alla rovescia no ma ti capisco perché mi ci sto dedicando anch'io questa cosa e sto vedendo che è davvero così è un po' come diceva quello scultore Michelangelo se non sbaglio che diceva che la statua era già lì tu devi solo togliere tutta la parte attorno in un certo senso potrebbe essere l'equivalente per un libro ecco hai detto una cosa fondamentale di quello che sto facendo adesso io mi sono accorta soprattutto nel processo della traduzione fatta alla rovescia perché ricordate che io ho fatto prima in inglese poi tradotto in italiano tramite google translator che è uno schifo bestiale viene fuori delle parole sconnesse ho dovuto riscrivere tutta la storia lì vengono fuori nuove idee quindi ora la chiamerò la seconda edizione che è praticamente prendere un pezzo grezzo e dire oddio devo lavorarci sopra come fosse una scultura poi ci devi ritornare sopra e poi sopra e poi sopra e quindi equivale proprio a come a smussare i difetti e fare in modo che la statua poi alla fine diventi quasi perfetta insomma perfetta non sarà mai perché più ci torni sopra e più cambi virgole punti eccetera eccetera e questo è comunque un gioco energetico in cui te ti fondi e diventi il libro poi diventi te il libro la storia ecco che poi se ci pensi bene noi siamo quell'energia che si trasforma nelle cose che facciamo quindi quando cuscini diventi quel piatto quando balli diventi quella danza ecco adesso sto dicendo una cosa per esempio vedi che è uno spunto potrebbe essere per Jack può essere per me stessa e per qualcuno che ci ascolta noi diventiamo quell'energia quando ci fondiamo con essa è vero assolutamente Giovanna siamo arrivati quasi all'ora e mezza io ti ringrazio per la presenza c'è per caso Tigre in giro stavo guardando perché a volte arriva è sparito è andato a dormire abbiamo un letto a castello e ora gli piace dormire lì se no te lo facevo vedere un salutino al bozzolone c'è 6 kg 25 il veterinario mi ha detto non può essere così lui deve essere non più di 5 kg quindi ora deve fare la dieta è sempre intorno io infatti mi aspettavo venisse qui perché ha sempre fame lui dammi qualcosa e a dieta va bene allora io ti ringrazio di avermi invitato a parlare di questa bellissima cosa insomma di questo argomento che a me interessa sempre tanto grazie a te Giovanna io spero che ci sarà anzi ci sarà sicuramente ancora l'occasione di di vedersi di via video ma poi sicuramente ci sarà di persona mi piace immaginare e oggi volevo chiudere in una maniera diversa nel senso che andiamo giù tutti e due facciamo questa roba diversa quindi volevo salutare un po' tutti gli amici che ci hanno fatto compagnia per quest'ora e mezza ho visto che siete stati interessati avete partecipato vi è piaciuta Giovanna di fatti siete tornati sempre un piacere averla e quindi da parte mia vi auguro una buona una buona notte e vi ringrazio e anche da parte di di Giovanna immagino buona serata a tutti e buona Kundalini a tutti giusto buona Kundalini a tutti ciao amici grazie ciao